Ricapitalizzazione del CSTP e conto consultivo, queste solo due delle direttrici lungo le quali si è snodata la seduta di Consiglio Comunale di oggi a non c'era inferiore, dopo l'inversione degli argomenti all'ordine del giorno proposta da Gianfranco Trotta e votata all'unanimità. Nonostante l'affanno economico in cui l'ente oggettivamente versa, la classe dirigente non si è sottratta al dovere morale di offrire una chance al CSTP. 170 mila euro, la prima tranche di un totale di 230 mila, la somma che il Comune di Nocera Inferiore, socio con poco più del 4% delle quote, ha stabilito distanziare per la ricapitalizzazione del consorzio. In città sono infatti 40 le famiglie il cui destino è legato al futuro del trasporto su gomma. In crucio di Fioretti poi, lunghissimo, in chiave tutta politica, per l'argomento rendiconto, maggioranza ed opposizione su fronti assolutamente antitetici, in particolare sul piano di riequilibrio pluriennale. Abbiamo alcune perplessità forti. Innanzitutto vogliamo essere convinti che tutta questa grande mola dei residui attivi ante 2007, cioè per i creditori, il credito che il Comune garanterebbe fino al 2006, che viene tolto dal conto di gestione e messo al conto patrimonio, sia supportata questa scelta da tutti gli atti dei dirigenti che certificano questi crediti difficilmente esigibili, come prevede d'altronde anche la legge, le linee guida per quanto riguarda il piano di riequilibrio finanziale. Ci sembra strano che non sia stato fatto alcunché, così in maniera puntuale, poi vedremo se è puntuale sui residui attivi, per quanto riguarda i residui passivi. Pensate che quest'anno si è tolto appena 49 mila euro di residui passivi, ai fronti di oltre 5 milioni tolti l'anno scorso. E poi nel rivedere le carte con report che abbiamo fatto noi, con il nostro gruppo di lavoro all'interno del Partito Democratico, perché obiettivamente gli atti forniti dall'amministrazione non erano molto leggibili, ci siamo resi conto che ci sono creditori nei confronti del Comune per crediti 2007, 2001 e quant'altro, addirittura di 0,17 centesimi, 0,56 centesimi di euro, 0,84 centesimi di euro, che sommando questi crediti da qui fino a crediti di 50 mila euro sarebbe un ammontare circa di un milione e mezzo di euro, che probabilmente con una stessa solerzia fatta per i residui passivi, probabilmente avrebbe quantomeno ridotto il disavanzo. che il comulente sarà attenzionato per la prima volta dopo 30 anni dalla Corte dei Conti e sfido io, come si possa immaginare, di presentare un piano di riequilibrio già per il 2013, quando essendo a giugno non abbiamo la possibilità, anche per la normativa legislativa in ritardo, di approntare quantomeno un minimo di bilancio di previsione 2013. Noi abbiamo non cancellato del tutto i residui attivi che sarebbero i vecchi crediti non riscossi o di difficile dubbio di risicotibilità, li abbiamo accantonati nel conto patrimonio. A differenza di quello che è stato fatto in qualche altro comune, mi dicono, non so se sia vero, nel comune capoluogo addirittura, nel quale vi è stata una totale cancellazione dei residui. Noi dobbiamo dire per uscire fuori dai tecnicismi, se no chi ci ascolta non ci capisce niente. Abbiamo ereditato un bilancio nel corso degli anni, di fatto non rispecchiante la reale situazione di potenziale creditoria dell'ente, lo abbiamo ripulito, abbiamo accantonato senza eliminarli quelli che sono i crediti che potenzialmente il comune può accertare e lo andiamo a rimettere in bonus. Cioè stiamo facendo quello che per anni non si è fatto per spiegare ai cittadini se per anni noi ci portiamo addosso 57 milioni di euro di debiti per spese correnti, 120 milioni e spari di debito per quanto riguarda le spese in sorta capitale e i mutui per le opere pubbliche, non è che vogliamo arrivare alla fine di tutta la discussione, quasi quasi noi siamo stati o troppo rigorosi o coloro che portano sull'orlo delle difficoltà il comune, all'incontrario lo salviamo dal burrone, quello sul quale era stato spinto da politica di spesa irresponsabili di chi ha amministrato. Speriamo che gli altri, coloro che in passato, lo dico senza polemiche ma va detto per memoria storica, hanno amministrato, non abbiano anche la faccia tosta, mi sia usata la bonomia del termine in modo ironico, non polemico, di volersi alzare in cattedra. Grazie.